bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale come prima cosa iscrivetevi al nostro canale mi raccomando come al solito io sono gabriele più birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai brillo facci vedere allora eccolo qua black caraibia una bomba una squisitezza un liquidozzo che può appagare le vostre pappine gustative è un lattacchia con cocco e ananas preso da svopo caffè ricordiamolo marina di cara moliciara la spezia un liquidozzo che quando lo svapi sembra di essere su un'isola deserta perché ti ennebria allora della hazard elizir il nuovo formato 20 ml di aroma ci va aggiunta la vaseta al suo interno e uguale la nicotina 10 ml di nicotina lo fai a 3 noi a 0 andiamo a fare la prova di svapo sulla nostra billet papà papà l'abbiamo già rifilata fatto il refill col vape shell poi andremo a fare la recensione di questo atomizzatori no allora vai gabrie a 20 watt con la riduttore piccolino cosa senti le tue pappiglie buono cioè si sente tutto si sente secco mi piace il vuoto tanta roba sia il cocco che l'hanno rilanciato bene con la taccolata che ti ricorda il tabacco così il cuoio per me il nove se lo prende anche per me tutto ci sta durante il giorno si cura che c'è questo caldo un po di frutti mi scola del tabacco ci sta ci stanno ci stanno ci sta come il solito tabacco si fa di solo tabacco che poi smaga di cambio una boxetta così ci butti dentro liquidozza e vai perché hai miscelato bene se ne tutte e due miscelano bene l'abbiamo fatto tanto tempo fa l'ho lasciato lì un bel po' dicono qua c'è è uscito 36 ore ma io l'ho lasciato a maturare a maturare infatti è venuto buono è venuto buonissimo bello scuro una bomba la cacchiuso proprio e i frutti che ci stanno bene allora io ci do un 8 9 8 e mezzo sì 8 e mezzo 9 dalla taberna dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al nostro canale ricordatevi che siamo qui a fare altri video che andranno ora in onda prossimamente dei bei videozzi allora iscrivetevi al nostro canale di facebook e instagram che stiamo crescendo piano 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 ci abbiamo un po di iscritti vedo che mi fate anche delle domande diciamo che ci siamo contenti allora la data di lo swap è tutto ciao 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 ciao